Un ospite che in realtà di mestiere non fa altro che informare al meglio su tutti questi argomenti, io come giornalista la considero una fonte primaria per tutto quello che riguarda la sanità ed è il quotidiano che trovate sul sito www.codianosanità.it ed è con noi. Di questo lo ringrazio il direttore Cesare Fassari. Buon pomeriggio direttore. Buon pomeriggio a voi.